Arrestato un 38enne a Caltanissetta dalla Polizia di Stato, l'uomo avrebbe compiuto due tentate rapine in pochi minuti domenica scorsa e nel pomeriggio di sabato in via Canonico Pulci un'ulteriore rapina, fatta seguendo sempre lo stesso schema. Incappucciato e con il volto coperto dalla mascherina si avvicinava alle vittime e le minacciava con una siringa sporca di sangue chiedendogli del danaro. I due tentativi di domenica pomeriggio sarebbero avvenuti, uno in via Guastaferro vicino alla fermata degli autobus dove l'uomo si sarebbe avvicinato all'auto di due persone chiedendo soldi e minacciandoli con una siringa sporca di sangue. La rapina non è andata a buon fine proprio per la reazione dei giovani che hanno acceso l'auto e si sono dati alla fuga. La seconda, poco dopo, vicino all'ufficio postale di Piazza Roma dove una persona stava prelevando del denaro dal banco ma anche in questo caso l'uomo avrebbe minacciato la vittima e chiesto il denaro ma la vittima è scappata immediatamente nonostante avesse già inserito la scheda e non avesse composto il codice PIN si è dato alla fuga sottraendosi alla rapina ed allertando la polizia. Le due segnalazioni e le descrizioni hanno permesso agli agenti della volante di intervenire subito e individuare l'uomo ancora vicino alla zona del secondo episodio. Arrivati sul posto, vista la corrispondenza con quanto descritto dalle vittime, hanno fermato il rapinatore, una volta perquisito hanno trovato e sequestrato la siringa dal coniaghi sporchi di sangue. Una volta condotto in quest'ora il rapinatore, già precedentemente gravato da pregiudizi di polizia, avrebbe ammesso di essere stato l'autore delle due tentate rapine. Così, dopo le formalità di rito su disposizione del pubblico ministero della Repubblica di Caltanissetta, è stato poi condotto al carcere Malaspina. Adesso è a disposizione dell'autorità giudiziaria.